C'è un nuovo contagio da covid nel Cilento. Si tratta di una persona proveniente dalla Romania, ma residente a Vallo della Lucania, che è risultata positiva al virus. Attualmente si trova in isolamento nella propria abitazione. Ricostruita la catena dei contatti per isolare il contagio, nelle prossime ore si eseguiranno i tamponi come da prassi dell'asla di Salerno. Buone notizie giungono invece dal comune di Capaccio Pestum. Cinque delle sei persone che nelle scorse settimane avevano contratto il coronavirus sono risultate negative al secondo tampone e sono quindi clinicamente guarite. A farlo sapere il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, che invita comunque a non abbassare la guardia e continuare a rispettare scrupolosamente le procedure di sicurezza. Tamponi negativi anche per il comune di Oria effettuati sui concittadini che avevano avuto contatti con la donna risultata positiva al covid. Una bellissima notizia è un grandissimo sospiro di sollievo per i concittadini del comune, scrive in una nota stampa il sindaco Mauro Inverso. Il responsabile dell'ufficio prevenzione dell'asla, il dottor Scarano, mi ha comunicato ufficialmente che i tamponi effettuati sui quattro cittadini della frazione di piano vetrale sono risultati tutti negativi. Ovviamente i pazienti dovranno fare altri tamponi di conferma al termine della quarantena, che dovrà continuare fino a nuove disposizioni. Anche nel comune di Pisciotta la situazione si arresta. Tutti i tamponi effettuati nei giorni scorsi sui nuclei familiari entrati in contatto con gli ultimi soggetti e a risultare positivi, il minore che aveva frequentato la ludoteca in località Caprioli, hanno dato esito negativo. E comunque tutti i positivi sono in isolamento, mentre tutte le persone con cui erano entrati in contatto sono state tutte sottoposte a tampone con esito negativo. Tutti i tamponi dunque effettuati nell'ambito dei nuclei familiari interessati alla frequentazione da parte di bimbi della ludoteca di Caprioli hanno dato esito negativo, dichiara il primo cittadino. Ragionevolmente significa che il problema è stato circoscritto e che i residenti e turisti possono vivere in tranquillità.